A Palazzo Pirelli una giornata di informazione e sensibilizzazione in campo uro-andrologico. La Commissione Sanità, presieduta da Fabio Rolfi, ha voluto rimarcare l'importanza della prevenzione insieme alla Società Italiana di Urologia Territoriale, alla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità e alla Società Italiana di Riproduzione Umana. Le disfunzioni sessuali sono un problema importante in quanto spesso sono sintomo di malattie sistemiche o cardiovascolari che si svilupperanno negli anni successivi. Pensate che man mano che si va avanti con gli anni vediamo che la disfunzione rettile va di pari passo con l'incremento del diabete, dell'ipertensione, della dislipidemia in particolare di quella che è la sindrome metabolica che può colpire addirittura fino a un quarto delle persone tant'è vero che noi abbiamo che circa il 50% delle persone sopra i 50-60 anni iniziano ad avere disfunzione rettile. Tante patologie che possono essere responsabili di infertilità possono essere intercettate fin dai primissimi anni di vita o addirittura ancora nel grembo materno. Si è visto che bambini maschi nati da mamme fumatrici o che bevono alcolici hanno un tasso di fertilità decisamente inferiore quindi già fin dal grembo materno possiamo fare una prevenzione. Il messaggio importante nostro è ai problemi anche piccoli di incontinenza urinaria, infezioni delle vie urinarie ricorrenti, problematiche inerenti alla sfera genito-urinaria, anche dolore e rapporti sessuali, è bene farsi visitare dall'urologo e se possibile, come è presente all'interno del nostro ospedale l'SST Ilariana, indivirizzarsi presso gli ambulatori di urossessuologia che chiaramente con un ticket solo permettono di valutare entrambi i membri della coppia. Prevenire consente di proiettarci più nel lungo periodo con condizioni di vita più salubri, più in condizioni di salute, ridurre i costi per il sistema sanitario, gestire meglio il grande problema della cronicità, che è il problema più esplosivo nel campo sanitario che ha a che fare appunto con i costi che le malattie croniche assorbono in maniera costante. Per cui è fondamentale prevenire, questo è il senso di questa giornata e nelle giornate future che faremo su altre patologie.